Collegamento piacevole ieri a Domenica Inn tra Maravini e proprio Antonella Clerici, la ben Antonellina infatti si è apparesata in maniera diretta attraverso la sua voce, forse non fisicamente, a Domenica Inn. E pensate che proprio la bella Maravini avrebbe detto a Antonella Clerici. Sai che ho letto il tuo libro? Va bene ci sono le ricette, ma credo che nasca dal tuo cuore perché racconta la tua nuova vita e così. Così proprio Antonellina Clerici avrebbe risposto, guarda Mara io e te abbiamo fatto un patto col pubblico di raccontarci sempre tutto. Ho imparato tanto dalla natura, io prima ero una cittadina, in tanti mi dicevano che mi sarei annoiata qui e invece io sto benissimo. Certo che mi mancano gli amici, poi è arrivata la pandemia, il lockdown, ma oggi la tecnologia ci aiuta moltissimo. E' stato poi trasmesso un videoclip delle due che hanno parlato di famiglia, del compagno Vittorio Garrone, in cui Maravini ha notato uno sguardo davvero molto sexy e piuttosto innamorato proprio di Antonella Clerici. E poi è arrivata una sorpresa, infatti Mael è la vera cuoca della casa e ecco che si parla proprio di Mael. Insomma è stata una presenza di Antonella Clerici ieri a Domine Cain, 31 gennaio 2021, davvero bella, davvero piacevole da guardare, da osservare e da godere. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, iscrivetevi al canale, commentate. Un saluto caro d'Aleando, narrato italiano. Grazie. Grazie. Grazie.